Un primo maggio a passeggio in centro ad Arezzo, come non capitava ormai davvero da tanto tempo, ma rispettando le regole. Così gli aretini hanno interpretato l'ordinanza della regione toscana secondo la quale appunto si può uscire solo in compagnia dei propri familiari o congiunti che dir si voglia o comunque conviventi, a piedi o in bicicletta, non uscendo dal comune di residenza e non fermandosi per creare assembramenti. Questa la situazione nel centro a retino intorno alle 17 del pomeriggio del primo maggio 2020. Abbiamo visto anche passare i mezzi pubblici praticamente vuoti e le pattuglie della polizia locale in giro per i controlli. Nella serata del 30 aprile invece c'è stato chi ha violato le regole. Ben 8 persone sono state ritrovate all'interno di un locale del centro e grazie ad un intervento congiunto di polizia locale e polizia di stato sono stati multati. Lo stesso sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli aveva annunciato controlli serrati sulle uscite e se i comportamenti scorretti dovessero essere troppi è pronto ad inasprire le regole dettate dalla regione toscana.